1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 21. Ciao ragazze, benvenute, anche oggi a una nuova lezione di Lady Style, sempre con me, livello base. Andiamo subito, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8